Questa è una storia vera un case report presente nel Canadian Association Medical Journal che ci racconta come ancora oggi nei paesi industrializzati basta fare dei piccoli cambiamenti nella dieta per potersi ritrovare un giorno al pronto soccorso è la storia di Jennifer una donna di 54 anni che si è trovata ad avere seri problemi di salute perché un giorno per motivi futili ha deciso di modificare le sue abitudini alimentari in questo video andiamo a scoprire insieme la storia di Jennifer per imparare tutti quanto alcune scelte alimentari possano veramente influenzare negativamente la tua salute Jennifer è una donna di 54 anni sportiva e sempre in salute ha intenzione di partecipare a una maratona e quindi si sta allenando frequentemente però purtroppo negli ultimi mesi si sente sempre più stanca ha dolore alle gambe fa fatica e non riesce più ad allenarsi come prima il dolore parte da dietro il ginocchio ma poi si espande prende tutto il polpaccio e il piede è un fastidio così forte che non riesce neanche a sfiolarlo con le dita ha finito quindi per fare solo delle attività di stretching lasciando da parte per un po' la corsa nonostante questo però le cose non sono migliorate ha iniziato a vedere degli strani lividi dietro la schiena nonostante non avesse ricevuto nessun colpo dei piccoli puntini rossi lungo tutto le gambe non pensava fosse niente di serio d'altronde avendo fatto tanto sport in gioventù sa benissimo che i dolori sono normali se non fosse che le cose invece che migliorare peggiorano e la situazione è così grave che finisce per non riuscire neanche più a camminare senza problemi è così che i familiari prendono la decisione di portarla subito al pronto soccorso fare degli esami e capire cosa c'è che non va arrivata in ospedale la sua pressione era nella norma aveva semplicemente il battito cardiaco un po' alto a 103 ma i medici hanno pensato semplicemente che fosse un po' ansiosa perché lei non è una donna che si trova tanto a suo agio dentro un ospedale il medico che la visitò decise subito di fare degli esami del sangue e un'ispezione delle gambe non c'erano grosse alterazioni se non un fatto che appena sfiorava i polpacci Jennifer saltava dal dolore visto questo sintomo il medico ha subito pensato a una eventualità tra le peggiori ovvero un possibile coagulo di sangue quella conosciuta come trombosi venosa profonda che se non trattata immediatamente può portare a conseguenze molto serie come infarto o ictus ischemico prima cosa da fare allora immediatamente un'ecografia delle gambe per individuare se ci fossero coaguli per fortuna è negativa la situazione cosicché il medico decide di fare anche una radiografia per escludere che ci possano essere fratture o magari un tumore da questi approfondimenti si evince che c'è un piccolo accumulo di liquido proprio sotto la pelle e tra un muscolo e l'altro il gonfiore delle gambe normalmente può essere dovuto a un malfunzionamento dei reni del fegato o a un problema cardiaco ma gli esami del sangue di Jennifer sono normali non c'è niente che dimostri una sofferenza del fegato o dei reni quella che vi do adesso è una sezione trasversale della risonanza magnetica fatta a Jenny vedi quelle frecce bianche indicano un accumulo di liquido nella zona e le frecce nere indicano che questo accumulo è anche più profondo tra un muscolo e l'altro tra un tessuto connettivo e l'altro non c'è dubbio che c'è un'infiammazione ma da dove nasce questo problema? che cosa sta generando l'infiammazione? per escludere qualsiasi rischio di cancro il medico ordina un'attacca completa torace, addome e anche bacino per fortuna di Jenny non c'è nessuna neoplasia il rischio di cancro è scongiurato non ha diabete e neanche quella può essere la causa allora questa infiammazione deve essere qualcosa di muscolare ed è per questo che i medici decidono di fare un'elettromiografia ovvero un esame molto specifico che va a testare la capacità dei muscoli incredibilmente però anche dall'elettromiografia niente di anomalo niente che possa dare un'indicazione un indizio specifico al medico di quale possa essere la causa dei problemi di Jennifer ed è così che il medico decide finalmente di prendere un'altra strada i livelli di emoglobina di Jennifer quando è entrata in ospedale erano abbastanza bassi dei 96 ma la cosa allarmante è che dopo 3 giorni in cui Jenny era in ospedale a fare tutti questi esami la sua emoglobina era ancora scesa maggiormente fino ad arrivare al 73 questa è una cosa abbastanza allarmante significa che qualche cosa non va nel suo sangue significa o che non sta producendo abbastanza globuli rossi o che sta perdendo del sangue ma non si sa ancora da dove se è una carenza di ferro i globuli rossi diventano più grandi se è una carenza di vitamina B12 diventano più piccoli ma dagli esami specifici per valutare proprio la dimensione degli stessi anche questi risultano nella norma a questo punto che cosa può fare un medico? non c'è niente di rilevante tutti gli esami sono negativi decide però per finire come ultimo esame di fare la conta di tutti i globuli rossi per capire se il corpo di Jenny ne sta producendo abbastanza oppure no è quello che emerge da un indizio molto molto interessante Jenny sta producendo più globuli rossi del normale è evidente quindi che il suo corpo sta cercando di sopperire a una perdita a una mancanza di globuli rossi a sufficienza questa è una pista interessante questa potrebbe essere la pista giusta Jenny ha dei lividi sulla schiena Jenny ha dei puntini rossi sulle gambe Jenny sta perdendo sangue sta avendo un'infiammazione il suo corpo sta producendo più globuli rossi possibili proprio per sopperire a questa situazione forse ha un problema di coagulazione forse prende dei farmaci che non permettono alle piastrine di funzionare correttamente no tutto nella norma dagli esami del sangue il conteggio delle piastrine è esattamente quello che dovrebbe essere il medico allora decide di fare finalmente una biopsia della pelle di Jenny è un procedimento semplice si taglia una parte della pelle e si manda in laboratorio per eventuali analisi purtroppo però per avere delle risposte possono passare 4-5 giorni o a volte perlomeno una settimana ma se Jenny continua a perdere ancora così tanto sangue se i suoi globuli rossi continuano a scendere potrebbe veramente aver bisogno di trasfusioni e quindi c'è bisogno di avere delle risposte subito il medico studia gli esami guarda le radiografie guarda le immagini di risonanza non ci sono spiegazioni torna da Jenny le fa altre domande le chiede se qualcuno in famiglia soffre di malattie rare o genetiche cerca di trovare un indizio cerca di trovare una prova che possa spiegare tutti questi avvenimenti in un momento dato però una cosa attira la sua ascensione sul tavolo di Jenny erano ancora presenti della frutta e della verdura che lei non aveva ancora mangiato nonostante infermieri e medici le avessero portato al pranzo Jennifer perché non finisci il tuo pasto? perché non stai mangiando questa frutta e questa verdura? sa dottore qualche anno fa ho iniziato a sviluppare un po' di intolleranza di disturbi digestivi ed è così che lentamente ho iniziato ad escludere la frutta e la verdura in generale ed è così che questa semplice spiegazione aggiunta a un esame specifico per valutare i livelli di vitamina C nel sangue hanno dato un quadro completo di come mai Jennifer stesse soffrendo tutti questi sintomi la carenza di vitamina C si pensa sia ormai una cosa inesistente ormai una cosa superata però almeno nei paesi sviluppati nei paesi industrializzati i primi a soffrire di scorbuto ovvero tutti i sintomi di carenza di vitamina C furono i marinai nel 1500 nel 1600 ed in tantissimi morirono proprio per questa carenza nel 1753 però per fortuna un chirurgo inglese Sir Lind decide per la prima volta di fare un esperimento scientifico per capire quale fosse la causa di questi disturbi che lamentavano i marinai decise così di dividerli in due gruppi e ad un gruppo dare delle arance e dei limoni e all'altro invece altri prodotti subito si rese conto che arance e limoni evitavano tutti i problemi di scorbuto e riuscivano a mantenere sani e in vita i marinai nonostante i mesi lontani dalla terraferma il mistero era stato scoperto nonostante solo due secoli dopo venne individuata la molecola di vitamina C e collegata la sua mancanza a tutti questi sintomi sfastidiosi a tutti questi sintomi molto pericolosi la vitamina C infatti è necessaria per creare la L-carnitina una molecola che tra le altre ha la funzione di trasformare il grasso in energia ed è per questo che negli ultimi mesi Jenny si sentiva sempre più stanca ma la vitamina C è anche un componente essenziale nella formazione di noradrenalina e adrenalina che sono appunto quelle molecole essenziali nella risposta di lotta o fuga in aggiunta e questo probabilmente spiega tutti i suoi sintomi come i lividi e i punti rossi la vitamina C è una componente essenziale nella formazione del collagene senza vitamina C il corpo di Jennifer non produceva abbastanza collagene i suoi vasi sanguigni erano diventati deboli e perdevano sangue senza poter farci niente è quindi tutto il tessuto connettivo che ne soffre praticamente tutto il tuo corpo non c'è quindi una lea specifica un'infiammazione identificabile attraverso degli esami specifici proprio come per Jenny c'era un'indicazione di accumulo di liquidi nelle gambe e di infiammazione ma non era una cosa chiara specifica circoscritta a una zona bensì diffusa in tutte le sue gambe perdeva costantemente e continuamente sangue e il suo corpo cercava di sopperire aumentando la produzione di emoglobina ma è solo dopo l'integrazione con vitamina C che le cose sono migliorate che il corpo è ritornato a produrre efficacemente collagene e Jenny lentamente si è sentita meglio ha superato i suoi dolori ed è ritornata a camminare senza più disturbi tu pensa che quando hanno fatto gli esami del sangue per la vitamina C i suoi livelli erano così bassi che neanche l'attrezzatura era capace di individuarne il livello preciso indicando semplicemente che era sotto il livello di 10 quando in una persona assai normale questi livelli dovrebbero essere di almeno 90 o 100 è una storia per fortuna a lieto fine una storia rara diciamocelo che non si vede spesso nei paesi industrializzati tantomeno in Italia se non fosse però che è meglio non sottovalutarla perché oggi le statistiche ci dicono che nei paesi industrializzati almeno il 5% della popolazione soffre di carenza di vitamina C e questa carenza arriva fino al 18% 1 persona su 5 di fumatori o fumatrici possiamo quindi affermare che se hai una dieta ricca di frutta verdura cereali integrali e legumi probabilmente non avrai mai di questi disturbi e i tuoi livelli di vitamina C saranno sempre ottimali ma se non ti piace mangiare la verdura se la frutta la mangi di rado se fumi o sei particolarmente stressato allora potresti essere soggetto a una carenza di vitamina C che magari si manifesta ultimamente semplicemente con stanchezza ma che potrebbe sfociare in qualcosa di più serio proprio come è accaduto a Jennifer se questo è il tuo caso il primo passo è di fare degli esami del sangue parlarne col tuo medico capire quali sono i tuoi livelli così da poter prendere dei rimedi non fare mai però mai il fai da te perché sappi che una vitamina C troppo bassa può dare dei disturbi seri ma anche i livelli troppo alti possono dare complicazioni ed è quindi meglio prima fare delle analisi per poi capire come reagire sempre consapevoli però che a parte casi specifici proprio come quello di Jennifer il rimedio migliore è sempre quello attraverso la dieta perché i supplementi non ti danno garanzie perché i supplementi possono portarti ad avere dei livelli troppo alti perché nei supplementi non ci sono quelle norme che ti portano ad essere sicuro che quello che stai prendendo è veramente il principio attivo di cui hai bisogno io prima di andare via passo la parola a te e ti invito a commentare qui sotto se fumi o sei amici fumatori o fumatrici e se sai quanto sia importante la vitamina C specialmente nella tua situazione per oggi è tutto ciao e grazie grazie a tutti grazie a tutti